Sono contento per questo doppio obiettivo sia per le 100 che per la doppietta. Abbiamo un rammarico di non aver portato a casa la vittoria, però abbiamo fatto una partita come si doveva, abbiamo combattuto, ho fatto tante occasioni. Siamo ripartiti da Caserta dove meritiamo la vittoria, nessuno può dirci il contrario e ora andiamo avanti ancora così. Mi mancava tanto, comunque è stato pure un po' sfortunato tra rigore e parato, un po' di occasioni dove i portieri mi hanno salvato qualche occasione, però finalmente mi sono risbloccato e ora non ci dobbiamo fermare. Il nostro obiettivo è quello di piazzarsi il miglior modo possibile in classifica per i play-off, oggi quando siamo rientrano a Spelleteo abbiamo capito che la partita si poteva ribaltare, abbiamo pareggiato, però penso che siamo contenti e soddisfatti. In ultime partite le squadre vengono a combattere, quindi non è mai facile, anche se per qualcuno la partita era scontata, non lo è mai, da qua fino alla fine. No, non ci deve importare, loro comunque giovano per la salvezza, non giovano per i play-off, come il Potenza questo era giocato pure per salvarsi, proprio per centrare i play-off. Ogni squadra ormai da le ultime quattro partite c'è un obiettivo, noi pure e quindi saranno quattro battaglie tutte da affrontare al massimo. Dedica mia famiglia, mia figlia, mia moglie che sono state lontano questi 5-6 mesi e ora sono tornate, e poi a mia mamma e a mio papà che mi stanno sempre accanto, ma soprattutto a mia figlia e mia moglie.